Samuel Sterna numero 25, l'angelo del focolare. In Viper Vendetta dicevano che Dio è nella pioggia. Beh, se Dio è nella pioggia, il diavolo è sicuramente nella muffa. Wabalabadabdabe, bentornati, sono Mamamazzo, bentornati nella rubrica Samuel Sterna. Con molto hype volevo leggere questo numero e non sono stato assolutamente deluso. Questo numero è una bomba, una bomba di emozioni, non per forza positive, nel senso che comunque suscita anche diverse angosce interiori, ma comunque le smuove ed è un buonissimo risultato per un fumetto riuscire a scavarti dentro, a smuoverti dentro. E vorrei parlare un po' con voi di quello appunto che mi ha suscitato. Ma prima parliamo di un paio di note editoriali. Innanzitutto, se avete notato, e se non l'avete notato lo spiegano all'interno, il famigerato logo rosso Samuel Sterna, dopo due anni di pubblicazioni, con un solo speciale dove, uno o due, non mi ricordo, dove il logo cambiava, anche nella serie regolare il logo ha iniziato a cambiare colore. E come ci dice lo stesso Fumasoli, d'ora in poi seguirà, diciamo, l'aura totale, l'apostrofo aura totale della copertina. Quindi questo mese è giallo, il prossimo mese sarà viola, eccetera eccetera. L'altra nota che volevo dire a livello editoriale è che lo spazio del Daryling è stato leggermente accorciato perché a grande richiesta c'è stato un... i fan hanno chiesto un previously, previously on Samuel Stern, quindi nelle puntate precedenti, che aiuta un attimino dopo due anni di pubblicazioni a fare un punto di dove si è arrivati, di cosa è successo, soprattutto per una persona che prende il numero in mano per la prima volta, può eventualmente capire chi è questo personaggio e approcciarcisi anche dopo due anni di pubblicazioni. Ultimo, ma non meno importante, nota bonus di queste tre note editoriali, sono diventato a tutti gli effetti uno sterniano, ovvero sono entrato nel fan club di Samuel Sterna. Aderendo al fan club di Samuel Sterna ci sono tanti vantaggi, ricchi premi e cotillon, per esempio ho ricevuto finalmente Cronache degli Sterniani, guardate che bello, guardate cosa c'è al suo interno, ci sono tante interviste, c'è un'intervista a Lisa Salsi, che è tra l'altro la disegnatrice di questo numero, tra le altre cose, c'è un'intervista a Fumasoli e c'è anche un'intervista a Massimiliano Filadoro, fatta dal sottoscritto tra l'altro, quindi se voi volete iscrivere al fan club sterniani.it, ve lo metto qua sotto in descrizione, insieme anche alla pagina Facebook, per seguire il gruppo Facebook degli Sterniani, potete ricevere eventualmente questi vantaggi. Quest'anno per Natale è arrivata appunto questa fanzine in cui sono contenute appunto queste interviste, c'è anche l'intervista a Gianmarco Fumasoli, fatta dal caro Luca DJ, con cui spesso collaboro, mentre c'è anche una terza intervista che è dedicata al disegnatore, eccolo qui, Luca Lamberti, dell'ultimo numero a Bisco, chiamiamolo a Bisco, cioè i numeri 24 e 25, il primo numero doppio disegnato dallo stesso disegnatore, a cura di Gianluca RKC Carboni, che vi metto sempre qua in descrizione la sua pagina YouTube, in modo che potete seguire anche lui, ma sono sicuro che già lo fate, se seguite anche me e Luca per Samuel, quindi sicuramente seguirete anche lui. Quindi un fantastico numero da poter collezionare, c'è un fantastico segnalibro di Samuel Stern, così se per caso non vi piace il colore giallo lo mettete rosso, no scherzo, potete usarlo appunto per segnare la pagina. Qua trovate tutti i vantaggi. C'è anche un vantaggio, vedete, chi era già supporter dall'anno scorso riceve qualcosa in più rispetto ai nuovi abbonati, quindi qua avreste trovato, se fossi stati abbonati anche dall'anno prima, un poster in più. Quindi più rimanete nel fan club, più i vantaggi aumentano. Io per esempio quest'anno ho ricevuto la cartolina di Natale di Samuel Stern, che è una gran piccata, e anche quest'altra che presto troverò il modo di mostrare, se non nei miei video, quantomeno nelle live, in modo che si veda sempre un po' di Samuel Stern nelle mie live. Tutte queste cose che vi ho mostrato sono tutte numerate. Questa è la copia 109 di 330 totali. Ovviamente è un club, quindi ovviamente c'è anche la tesserina con il mio numero, che è il 109, con il mio nome, è laminata, è una gran piccata. Bellissima, sono contentissimo, quindi iscrivetevi al fan club Sterniani per rimanere meglio aggiornati su questo magico mondo di Samuel Stern e magari sapere anche delle novità in anticipo rispetto a chi trova in edicola il fumetto, semplicemente. Questa cosa poi sicuramente la approfondiremo nella live che si trarrà su YouTube lunedì 6 dicembre. In mia compagnia ci saranno ancora Luca DJ e ci sarà Gianmarco Fumasoli e lo torchieremo un pochino per chiedergli com'è andato questo secondo anno editoriale, questa conclusione del secondo ciclo di Samuel Stern. Quindi chiuderemo questi 24 numeri con una live col botto. Iscrivetevi al canale in modo che vi arriverà la notifica per questa live. Ma ora concentriamoci su questo fantastico numero. Allora, innanzitutto, dato che il numero mi ha piaciuto molto, vorrei prima parlare di alcune critiche per poi levarmele dalle palle e parlare di tutte le emozioni che mi ha suscitato. Allora, se dovessi fare il critico di sto cazzo, direi che la storia di per sé è un po' sbilanciata, nel senso che c'è un'introduzione molto lunga, cioè arriviamo a pagina 54 prima di vedere una vera e propria azione, che non sia un preambolo, il preambolo è di 54 pagine, per poi avere una ricca azione nella parte centrale. Ma proprio per questo, proprio perché c'è molto spazio, molto ampio, alla storia iniziale, al preambolo, la parte finale mi sembra quasi, non dico tronca, ma forse l'avrei voluta vedere conclusa in modo più esplicativo, cioè un po' più lungo, non troppo didascalico. Forse perché mi sono affezionato proprio a questi personaggi e avrei voluto avere un po' più di sicurezza nel fatto che la loro vita si sarebbe risolta un pochino di più, invece viene quasi troncata la cosa. Ma comunque spero di vedere questi personaggi magari in una storia futura, perché no? Ma se devo parlare da lettore, da persona che si è goduta la storia, devo dire che so tutte cazzacce. Cioè il preambolo in realtà non è un preambolo, siamo già a pieno regime nella storia. Questa è la origin story di Penny, già avevamo saputo qualcosa di Penny, abbiamo scoperto qualcosa di più, che lei vive un costante senso di colpa perché il suo fratellino minore di appena due anni più piccolo di lei ha subito in passato un grave incidente che lo ha ridotto a non essere più autosufficiente. Penny va spesso, va tutte le settimane con suo fratello a una riunione di supporto, a un gruppo di supporto per persone con disabilità, parentesi, questi gruppi di supporto per persone con disabilità esistono davvero, ve li metto qua in descrizione, ce ne sono diversi per ogni regione, per ogni provincia e per ogni qualsivoglia malattia, io ve ne metto due o tre, poi ve lo dico così, se per caso siete nella condizione di Penny potete andare a cercare, andare a informarvi, non siete soli, assolutamente no, non siete soli e questo numero lo testimonia. L'angelo del focolare, che dà il titolo appunto a questo numero, è il nomignolo che viene affidato a Abigail, la protagonista diciamo di questo caso, Abigail o Abby, proprio perché lei stessa è stata per tutta la vita l'angelo del focolare della propria famiglia. Lei si è dovuto occupare, ha dovuto sacrificare se stessa, ha dovuto sacrificare i suoi sogni per tutti gli altri membri della propria famiglia e non ci credo che qua in Italia non ci sia una persona come Abigail, non ci sia qualcuno che leggendo questa storia si sia sentito rappresentato. Abigail ha rinunciato ai suoi sogni per aiutare la sorellina, un genio della biologia, a diventare la più giovane biologa marina della storia, quindi ha portato avanti i sogni della sorella, quindi ha pagato gli studi, eccetera, a suo discapito, ha aiutato i genitori e quando suo padre non c'era più ha aiutato per una serie di vicissitudine la sorellina che appunto è stata coinvolta in un incidente d'auto e anche lei è ridotta nelle condizioni simili a quelle del fratello di Penny e la madre che ha avuto un ictus, quindi ha continuato a essere l'angelo del focolare, cioè con lei che si è occupata sempre della famiglia nel bene e nel male e ne ha tutti i sintomi, uno, il più palese di tutti, è il burnout, è totalmente in burnout, cioè ovvero è talmente stressata di questa vita, di questa situazione che la vita le sta scivolando accanto, è quasi apatica da quanto sta sopportando, lo notiamo nei suoi sguardi vuoti, lo notiamo quando fondamentalmente anche di fronte a una battuta di Penny non riesce a sorridere, è sempre triste, è in costante tristezza mista all'apatia, poi ovviamente è dovuta anche al fatto che nel numero c'è un elemento sovrannaturale che però va proprio a rappresentare questo tipo di problema reale. Al giorno d'oggi si parla tantissimo di rappresentazione nella cultura pop per delle minoranze, per esempio si introducono supereroi, eroi di etnie diverse, di orientamenti diversi, perché le persone che sono di etnie diverse o abbiano un orientamento diverso si sentono appunto rappresentate da questi eroi di carta e in questo modo si sentono meno soli. Ecco, questo numero penso che sia l'ideale rappresentanza degli angeli del focolare, ovvero di tutte quelle persone che si stanno facendo un culo così per portare avanti la famiglia, per portare avanti magari dei genitori malati, dei fratelli, sorelle malati e rinunciano alla propria vita con non poca sofferenza, quindi si sentono bruciare dentro. Questo numero li fa sentire meno soli, anche se chiaramente non esce tanto vincitrice, ebbe, nel senso si nota che una vita del genere ti fa male, ma quantomeno ti fa capire che non si è soli in questa battaglia, che ci sono tante persone che vivono lo stesso dramma e che per questo ci si può aiutare a vicenda appunto con i gruppi che ho citato prima o con delle persone amiche che possono ascoltare, in questo caso è Penny stessa la persona amica, oltre al fatto che anche Penny ha i suoi problemi molto simili con il fratello. Se avete seguito altri miei video sapete che ci tengo molto a questi temi sociali, questi temi di assistenzialismo, ho fatto una live su Dylan Dog e la malattia in cui si è parlato molto anche di numeri che toccano la demenza senile, e toccano questi tipi di persone che per altri motivi non sono comunque autosufficienti. Uno dei miei numeri preferiti di Samuel Sterna proprio per questo motivo era la Casa dei Sospiri, però devo dire che questo sta entrando prepotentemente a gamba tesa nei primi tre, ecco diciamo, oltre al secondo girone che parla appunto di diversità in senso lato e la Casa dei Sospiri, che parla di questi tipi di problemi, qua siamo, anche qui siamo su questi problemi. Quando ho letto questo numero davvero sono stato un po' travolto da un turbinio di emozioni al punto che ho dovuto un attimino interrompere la lettura, perché mi sentivo come il meme di Gerry Scotti che dice Mio Dio ma parla di me! E quindi, tra l'altro c'è anche questa fantastica Ford Focus, che è la stessa auto di mio padre, però così per dire, per dirvi i cazzi miei. Comunque questo numero mi ha davvero, davvero emozionato, mi ha portato in luoghi abbastanza dolorosi, dove è giusto tornare ogni tanto, se si è vissuti esperienze simili, ma non si limita a parlare solo di questo, parla anche di un altro argomento, che fortunatamente non ho mai vissuto, che è fondamentalmente un certo tipo di violenza, un certo tipo di, chiamiamola relazione tossica, che viene sfiorata solo in parte nel momento in cui si accenna all'ex marito di Abby, ma poi viene esplorata molto meglio laddove l'ex marito viene invece sostituito da questa entità maligna, che però si comporta in tutto e per tutto come un padre padrone, fondamentalmente una parte di una relazione tossica che vuole il bene della propria famiglia, ma vuole tutto sotto controllo, quindi questa entità che è presente nella casa ci tiene a suo modo, nel suo modo malato, ci tiene a Abby, ci tiene alla sorellina, ma non vuole strane, non vuole per esempio che Penny li aiuti, vuole essere solo lui, solo questa entità maligna vuole essere colui che si occupa della famiglia, solo lui vuole essere l'angelo del focolare, e qua c'è un doppio rimando al fatto che l'angelo del focolare sia Abby, ma sia questa strana creatura non ben definita, che scopriremo mano a mano. Scopriamo che Abby nella sua sudditanza durante la vita è stata vittima di violenza anche fisica da parte del marito, che l'ha praticamente fatta abortire a suon di botte, e una volta che il marito se n'è andato è stata comunque vittima anche di violenza psicologica da parte di questa entità che comunque va a rappresentare sia il marito, ma in senso più ampio tutto quello che lei percepiva, tutto quello che Abby percepiva di negativo dal rapporto con le altre persone, e quindi anche il fatto che comunque i genitori la tenessero molto vicina a loro, con una sorta di senso di colpa, nonostante in realtà i genitori non fossero assolutamente così negativi, o anche le parole della sorella stessa, quando non era diversamente abile, la sorella stessa comunque era la classica ventenne che voleva vivere la vita, voleva vivere il mondo e non gliene fregava un cazzo della propria famiglia, e quindi Abby si è sentita anche il peso di molte parole che fanno male e le continua a rivivere grazie a questa entità che si alimenta delle sofferenze di Abby e della famiglia e si alimenta e le riversa su di loro proprio per continuare questo ciclo infinito di sofferenza che fa crescere questo, chiamiamolo, demone. Nota a margine per quanto riguarda proprio questo demone, questo nuovo tipo di entità demoniaca, è un tipo di entità che non abbiamo mai visto, è la prima volta dopo due anni che si esce un po' dal tema, ma direi che dopo due anni di possessioni classiche o di storie che non parlano di possessioni, è giusto anche esplorare temi nuovi. Qua si parla di qualcosa di posseduto che non è propriamente un essere umano in sé, ma è come se ci fosse un'entità che possiede sia la casa, che è rappresentata da questa muffa che non se ne vuole andare via, e sia dal rapporto tra le persone. Il demone non è propriamente dentro qualcuno o dentro qualcun altro, ma è nella relazione tra queste persone, nella relazione malata che si è formata tra queste persone. Questo dà anche un vantaggio tecnico dal punto di vista della narrazione, perché questa muffa si attacca alla pelle delle persone, può essere trasmessa, può essere anche portata fuori dalla casa. Vediamo che anche Penny iniziava a esserne intaccata, e vediamo che è una muffa maligna, perché nel momento in cui Penny tossisce l'aria che ha respirato all'interno di quella casa, il gatto, che è per simbologia legato al sobranaturale, si accorge quando c'è qualcosa, un'entità sopranaturale in giro, quando Penny tossisce il gatto scappa e... non mi viene il termine, scusate, sono allergico ai gatti, quindi sono un po' arroggenito, e fa... si arrabbia fondamentalmente. Questa stessa muffa si è intaccata anche nella madre di Abby, che è in una casa di riposo, quindi non è presente in quella casa, ma ciò nonostante c'è questo demone che riesce a comunicare attraverso questa muffa, ed è un risvolto interessante anche per il futuro di Samuel Stern, dal punto di vista narrativo. Quello che dicevo all'inizio sulla conclusione un po' affrettata è perché forse avrei preferito che una volta eliminata questa muffa senziente, demoniaca, avrei preferito vedere che le cose per loro, per Abby e per la sorellina, sarebbero migliorate notevolmente. Avrei preferito magari vedere che la sorellina in realtà non era realmente diventata così disabile, ma era questa entità che la teneva soggiogata. In realtà, esattamente come la vita, le cose non si risolvono con qualcosa di magico, le cose restano merdose come prima, anche senza il bisogno, anche senza la presenza di entità demoniaca, e quindi comunque Abby è in ospedale, si sta riabilitando, la sorellina si sta prendendo cura di lei, e però continua a essere la sorellina malata come era prima. Però non nego che mi dispiacerebbe in un futuro, anche lontano, vedere magari questa sorellina che stia migliorando, che si sia ripresa. Perché no? Magari che diventa amica del fratello di Penny. Sarebbe carino. Per me, che mi sono affezionato molto a questi personaggi, vedere un po' un miglioramento. Ma forse sono in negazione, esattamente come Penny all'inizio della storia. Chi vuole vivere ancora nel ricordo di quello che era suo fratello, perché non riesce ad accettare che suo fratello, al tempo presente, in realtà è questa nuova versione di se stesso, che comunque non è inferiore alla persona che era prima solo perché ha una disabilità. Come dice Samuel Sterno, nella sua immensa saggezza in questo numero, una persona non è limitata al proprio cervello, alla piena funzionalità delle sue capacità cerebrali. Una persona è anche oltre. Bene, io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui. Mi piacerebbe parlare in maniera anche più approfondita sempre di questo numero, magari ancora con voi, magari ne possiamo parlare su Twitch, seguitemi su Instagram e sugli altri miei social, su YouTube. C'è anche adesso un gruppo Telegram, se volete iscrivervi qua sotto trovate il link con invito, in modo che potete rimanere aggiornati. Si può organizzare una live molto carina, magari cerchiamo anche di contattare gli autori e vedere di parlare meglio di questo numero, se la cosa vi può far piacere. Io, come sempre, con l'inchino e con l'imbuto, vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video, che sarà sicuramente sulla serie regolare di Dilan Dog. Arrivederci. Cavoli, vorrei poter dire che questo numero è in tutto per tutto la storia della mia vita, tranne la muffa, ma in realtà no, ho anche la muffa.